Assessore Damiani, questo pomeriggio in rappresentanza del sindaco Stirati per onorare la memoria di Umberto Paruccini, una figura che ha rappresentato tanto per la città di Gubbio. Sì, assolutamente è necessario rendere omaggio a questi personaggi che comunque hanno contribuito a portare la democrazia nella nostra città. È una persona che, come diceva il Vescovo, ha dato la sua vita perché sapeva bene del rischio che correva portando gli aiuti umanitari sulla Basilica di Sant'Ubaldo dove risiedevano appunto i partigiani. E quindi abbiamo voluto rendere omaggio assolutamente con forza con la presenza dell'amministrazione a questa persona che insieme ai 40 martiri purtroppo è stata vittima di guerra. E queste iniziative che valore aggiunto danno alla città, alla storia della città e anche alla memoria di Ubaldo Paruccini? Beh assolutamente, come aveva dichiarato anche il sindaco Stirati durante le celebrazioni dei 40 martiri, sono un momento costitutivo della nostra comunità perché appunto con questi momenti noi prendiamo coscienza del fatto che anche a Gubbio purtroppo i venti di guerra hanno soffiato. Quindi è sempre bene ricordare, è sempre bene mantenere viva la memoria. Grazie a tutti.